Signore e signori buongiorno ecco a voi la Villa Linda siamo a 500 metri dalla spiaggia e vicinissimi al centro di Lignano Pineta ecco l'appartamento di tipo C soggiorno pranzo con televisione e divano letto matrimoniale angolo cottura con celletta freezer terrazza attrezzata con tavolo e sedie giardino privato recintato con lettini prendisole una camera matrimoniale con un terzo letto singolo e casaporte una camera a due letti singoli bagno con doccia un posto auto all'interno del giardino